Grazie Presidente. Quando c'è la diretta televisiva i politici si scaldano sempre, non è accaduto in realtà ovviamente finora, forse accadrà quando arriveremo ai partiti maggiori, perché in fondo la politica è diventata questa, quando date un palcoscenico alla politica sentirete toni roboanti, sentirete un po' di slogan, sentirete toni accesi, esagerazioni, manipolazioni, a volte persino falsità. Da questo piccolo gruppo di Italia Viva sentirete soltanto i tre motivi per cui abbiamo deciso di votare no a questa legge di bilancio, più una piccola riflessione. I tre motivi sono uno di metodo e due di merito. Il motivo di metodo è questo. Tutti gli anni, a causa delle disfunzioni del nostro sistema istituzionale, disfunzioni di cui tutti ci lamentiamo ma che poi non facciamo nulla per risolvere, la maggioranza fa i propri emendamenti ma si arriva a capodanno, quasi a capodanno a discutere le leggi di bilancio. La seconda Camera non ha tempo per far nulla. Voi quest'anno ci avete detto, cambiamo registro, facciamo una forzatura, diciamo la maggioranza di non presentare emendamenti, però almeno arriviamo all'immacolata e comunque alla Camera ci sarà modo per esaminare meglio. Invece siamo arrivati a capodanno lo stesso. Quindi senza emendamenti di maggioranza siamo comunque arrivati nella seconda Camera a non poter discutere nulla. E credo che anche alla prima Camera in Senato la solita notte un po' confusa. Com'è possibile? È possibile perché al Senato vi siete molto incartati perché a un certo punto non sapevate come passare dallo slogan alla gazzetta ufficiale, alle norme. Come riuscivate a tradurre in realtà e in effetti concreti quello che era un annuncio che avevate fatto. Vedete c'è un punto che noi politici siamo pagati e non poco, non per fare i slogan, ma per fare le norme in gazzetta ufficiale. E su questo voi andate forte sui primi e un po' meno sui secondi. Le ragioni di merito. La riduzione di tasse. Allora in questa manovra ci sono un po' di aumenti di tasse, l'IVA sui pannolini, sulla casa, sugli affitti, però la gran parte di questa manovra, 15-16 miliardi, è destinata alla conferma delle tasse. Perché il famoso cuneo contributivo, i contributi sul lavoro, gli italiani devono sapere che dalla tredicesima che prendono a dicembre quest'anno alla prima busta paga di gennaio non cambierà assolutamente nulla. Si tratta della conferma dello stesso livello di imposizione di peso contributivo che c'era a dicembre, ci sarà a gennaio. C'è qualcosa in più in realtà. C'è una manovra sull'IRPEF. Correggo il collega della vedova. Sono 14,60 euro in media al mese, per qualche milione di italiani. Quando qualcuno fece gli 80 euro fu aggredito per aver fatto una mancetta elettorale. Quelli erano 80 euro al mese. Questi sono 14,60 euro. Ah, e per chi guadagna più di 2.500 euro al mese netti non ci sono, perché avete deciso che quelli sono i ricchissimi e quindi gliele andate a recuperare. Da un'altra parte. Pensare che un lavoratore dipendente, ma anche un lavoro autonomo, che mette insieme 2.500, 2.600 euro al mese, sia il ricchissimo, vi dà la misura di come siate un po' scollegati da quello che accade fuori da qui. E poi, in aggiunta, c'è la tassazione sulle imprese. Con una mano avete dato qualcosina, ma con l'altra avete tolto. Il problema è che il bilancio è negativo per 2 miliardi e 8. Il bilancio fra aver dato quella piccola maxi deduzione per i nuovi assunti e aver tolto l'ACE, che non è il succo di frutta, ma è la detassazione per chi rafforza la propria impresa, dà un meno 2 miliardi e 8, che quindi è un incremento di tassazione sulle imprese. Ma la cosa peggiore di questa manovra è che 15 barra 16, perché poi col canone RAI siamo più o meno a 16 miliardi, di conferma o in parte riduzione tasse, sono finanziate solo sul 2024. Allora, delle due l'una, o questo è intenzionale, cioè voi volete finanziare un po' di riduzione di tasse solo per un anno, e allora mi chiedo se in quale paese del mondo i consumi ripartono quando tu dai soltanto 14 euro di riduzione di tasse per un anno. In nessun paese del mondo ripartono i consumi. O, se come probabile questa riduzione o conferma per voi è permanente, voi dovete spiegare a noi e agli italiani che ci ascoltano, perché vi state mettendo nelle condizioni, d'ora in poi, di far partire ogni legge di bilancio da meno 16 miliardi. La memoria è corta in questo paese, dei giornalisti, dei politici e a volte anche degli italiani. Quando fra un anno, settembre-ottobre, si dirà partiamo da meno 16, la gente penserà che è a causa di una maledizione biblica. Invece è a causa della scelta che state facendo adesso. Fate tornare la mannaia delle clausole di salvaguardia dell'IVA che, fatelo dire a chi, in un ruolo tecnico, ma qui c'è gente che aveva ruoli politici, nello scorso decennio governava, erano una mazzata, erano la cosa peggiore, perché davano l'idea a chi ci guardava che abbiamo un orizzonte solo di pochi mesi e poi Dio vede e provvede. Ma in questo paese, a furia di Dio vede e provvede, butto la palla in tribuna, ci siamo ridotti come siamo. Noi avremmo fatto un'altra cosa, avremmo trovato le coperture permanenti, perché, lo dicevo anche ieri, io non so come possiamo difendere il fatto di vivere in un paese dove negli ultimi vent'anni la spesa pubblica corrente, al netto degli interessi è raddoppiata. Non so quanti cittadini se ne sono accorti che abbiamo raddoppiato la spesa pubblica corrente al netto degli interessi. La verità è che alla sfida di provare a usare i soldi pubblici, con la stessa accortezza con cui usiamo quelli privati, abbiamo rinunciato tutti. Noi no, in realtà, perché gli 80 euro li finanziamo anche riducendo la spesa, ma lasciamo perdere. Il secondo motivo per cui votiamo no è che in questa manovra non troviamo cose sufficienti sulla priorità numero uno, che è la crescita economica. Dopo il rimbalzo Covid, ricordo gli amici 5 Stelle che i dati ufficiali dicono che dei 12 punti di rimbalzo, massimo 2, sono stati dovuti al superbonus. Invece sentirete dopo, 12 punti sul superbonus. Dopo il rimbalzo siamo tornati allo zero virgola. E la verità da raccontare agli italiani è che se questo paese torna a crescere allo zero virgola, col debito che abbiamo, va a sbattere. Va a sbattere se governate voi, va a sbattere se governiamo noi, va a sbattere se governate voi. Allora, noi avevamo proposto qualcosa. Voi in Europa con la negoziazione del PNRR avete preso un po' di miliardi per industria 5.0. Cioè, quei crediti d'imposta per chi investe nella transizione ecologica e nella crescita di impresa. Ma non avete fatto il decreto per capire come li spendiamo. Quindi dopo Capodanno, dopo i botti, l'anno inizia. Gli imprenditori non sanno quali saranno gli sconti fiscali per la sfida della transizione ecologica. Sulle imprese, ho già detto prima, non si cresce aumentando la tassazione sulle imprese. Fra il dare e l'avere avete aumentato il 2 miliardi e 8 la tassazione sulle imprese che dite essere il vostro bacino elettorale. Noi avevamo proposto alcune cose e c'è stato modo solo ieri di parlarne per tre minuti qui. Detassiamo due piccole imprese che si fondono per crearne una maggiore. Perché con micro imprese, salari alti in questo paese non potranno essere pagati mai. Ci avete detto di no. Detassiamo tutti i premi di produttività, non solo fino a 3 mila euro per chi guadagna 80 mila euro. Detassiamo tassazione zero tutte le volte che imprese e lavoratori si mettono d'accordo per fare più, per fare meglio. Detassiamo la contrattazione di secondo livello, là dove si respira la fabbrica. Datori di lavoro e lavoratori si mettono d'accordo per fare anche qui più e meglio. Lo Stato alzi le mani e dica tenetevi tutto il reddito che ne viene fuori. Queste sono misure che avrebbero aiutato la crescita. Ci avete detto di no. Signor Ministro, da qui a fine legislatura, voi, la notizia è con o senza patto di stabilità, ma non abbiamo tempo per parlarne, dovete tagliare dai 40 ai 50 miliardi di spesa o aumentare nuove entrate. Sapendo bene che avete fatto una campagna elettorale promettendo esattamente l'opposto. La vicenda delle pensioni è emblematica. Il suo segretario di partito dice ogni 5 minuti, la cosa folle che continua a dirlo, che vuole abolire la Fornero, in questa legge di bilancio non solo si conferma ma si peggiora la Fornero. Ma il punto qui è un altro. Lei l'altro giorno in Commissione, signor Ministro, ha fatto un invito alla responsabilità, però ci ha anche accusato negli ultimi quattro anni di essere stati in preda da allucinazione da debito. Signor Ministro, lei negli ultimi quattro anni è stato sottosegretario della Presidenza del Consiglio, ministro dello sviluppo economico e ministro dell'economia ed è vice segretario di un partito che ha costruito tutto il suo capitale politico su più debito. Allora, lei rischia di essere l'emblema di una politica che è riuscita a trasformare la cosa più bella che c'è, cioè la responsabilità di guidare una comunità in una corsa alla deresponsabilizzazione. Lo dimostra il fatto che tutte le volte che non sapete più cosa risponderci, sapete cosa dite? Eh, ma voi avete governato 10, 20, 30, 100 anni, perché non l'avete fatto? Che non è una cosa che aiuta a capire, ma perché siamo tutti diventati una recita in cui tendiamo a deresponsabilizzarci e a cercare lo slogan più efficace. Signor Ministro, questo Paese affronterà nei prossimi anni delle sfide da far tremare i polsi. Il PNRR, che adesso diventa roba seria, nei prossimi due o tre anni. La transizione ecologica, il debito, la demografia. Queste sfide si possono affrontare o scambiando la politica per una recita o guardando dal buco della serratura, tu hai guadagnato più di me, io ho guadagnato più di te, oppure con la responsabilità e il coraggio di guardare in faccia gli italiani e promettere un futuro migliore. Noi, col nostro 3%, 2%, 1%, fino allo 0,1%, vi promettiamo che sceglieremo la seconda strada. Grazie.